Ora siamo molto importanti, come Lituania e Slovaquia. Dopo questo gioco ho finito la mia carriera in Molta. Sono molto felice di tutto, il supporto è stato bello. La mia relazione con i pressi, come voi, con i altri, i supporti sono fantastici. Non c'è problema, perché normalmente anche la polemica è normale. Non puoi dire tutto perfetto. Non puoi fare un errore. Non c'è problema. Ma è una relazione. La mia relazione e la mia relazione è diversa. Allora, voglio dire grazie a tutti. Grazie per il supporto, grazie per le persone. Anche loro non vengono per vedere il gioco. Ma sono molto orgoglioso di stare a 6 anni in Molta. dopo 3 anni, 25 anni fa, sono molto felice. Grazie a tutti, alla federazione, al presidente, tutto. Grazie.